ciao a tutti amici e benvenuti in questo mio nuovissimo video l'ultima volta vi avevo fatto vedere come avevo realizzato la fondina delle pistole di Nathan Drake in 3 questa è la parte davanti la parte dietro il porta pistola e invece questa sarebbe il porta caricatore della pistola se siete appassionati alla saga e ovviamente avete anche giocato al gioco vi ricorderete senz'altro che a differenza di tutti gli altri capitoli nel terzo oltre avere la fondina delle pistole ha anche un altro accessorio eccolo qua questo è un porta munizioni a tracolla dove davanti questa è la parte davanti e questa è la parte dietro la parte davanti porta le munizioni del nitra mentre la parte dietro porta le munizioni del fucile a sono sei tasche sei davanti e sei dietro adesso ragazzi non mi resta che lasciarvi alle immagini e vi invito sempre a iscrivervi al canale e attivare la campanella noi ci vediamo alla prossima ciao ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.